Ma io posso rientrare in questa maniera, io posso rientrare in questa maniera, in questa modalità soprattutto, e vedermi che cosa, che cosa devo vedere questa sera. Lo scempio, lo scempio! Siete una vergogna! Mi spiegate come fate dopo 25, ti rimporta perdere con lo Spezia. Io adesso mi chiedo come si fa a perdere con lo Spezia 2 a 1. Io veramente faccio fatica, io veramente faccio fatica a comprendere questa sconfitta, io veramente voglio capire che cazzo avete in quella testa, come cazzo si fa a perdere 2 a 1 con lo Spezia. Io rientro così, bello, tranquillo, invece col cazzo! Ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Come cazzo si fa a perdere 2 a 1? Hai fatto 25 tiri in porta e ne hai fatto solamente 1 sul rigore con Lukaku. Io veramente, io parlo a volte veramente con voi, non riesco mai a trovare la quadra del cerchio. Io veramente, io veramente, mi sento male, mi sento male, mi sento male al pensiero. Io mi chiedo, ma come cazzo, come si fa? Dai, voglio capire da voi perché sapete, no? Perché io che posso capire che adesso c'è la Champions contro il Porto, quindi la squadra sicuramente con la testa già è a Porto. Ma non si può perdere! Non si può perdere con lo Spezia! E' inaccettabile, è inaccettabile. Ok? Lo scudetto mai al mano del Napoli è accurato. Ma perdere in questa maniera è veramente vergognoso. È veramente vergognoso. Abbiamo fatto la vergogna. Gli autarono, mannaggia a te, mannaggia, perché si è bollato quel cazzo che mi vuole, mannaggia. Io non posso andare avanti così. Io non posso andare avanti così. Voi a me mi ammazzate. Voi a me mi uccidete. Mi uccidete in questa maniera! Oggi vi avete ucciso. Oggi mi avete ucciso. Rientro così, belli, tranquilli. E voi che cosa mi regalate? Sta sconfitta. Oggi mi... Oggi mi... Oggi mi... Oggi mi... Non so quale... Meglio che me ne vadi... Meglio che me ne vadi. Non voglio usare altre parolacce, perché altrimenti è veramente un video da banna. Vergognatevi!